buonasera buonasera a tutti eccomi con voi per parlare di un'evoluzione meteorologica quanto mai dinamica tutto quello che sta succedendo oggi ci sono stati come previsto eh numerosi eh temporali piogge estese eh più a sud probabilmente di quello che prevedevano i modelli rispetto fino a qualche giorno fa comunque oggi eh le piogge si sono spinte fino alla capitale in nottate ci sono stati temporali anche tra Toscano e Marche ma da Roma in giù le piogge sono state estese e in particolare in Sicilia Campania eh Golfo di Policastro Calabria Tirrenica settentrionali sono state anche molto intense Trapani Trapani la città è stata completamente allagata un centoventi millimetri in poco tempo eh sospesa la mobilità eh ho postato anche dei video eh insomma a riguardo Sapri eh nel Golfo di Policastro duecento millimetri di pioggia oggi in maniera continua eh non dovuta a nuvifragio ma dovuta a piogge continue tutto il giorno allagamenti in campagna insomma ci sono state le piogge comunque attese con accumuli eh ripeto un più a sud probabilmente di quello che ci si aspettava ma ora ora sta arrivando il fronte di ruzione artica che porterà meno piogge ma ci sarà un'irruzione d'aria fredda la neve sulle Alpi e molti rovescia spasso per l'Italia cioè c'era soprattutto un rimescolamento d'aria eh l'aria fredda non entrerà completamente il nucleo artico rimarrà oltre ma spingerà masse d'aria fredda artica e comunque nelle nostre regioni e poi e poi che succede? Che giovedì e venerdì eh un altro impulso riuscirà a entrare ma molto ma più a ovest diciamo riuscirà a entrare questa volta alla porta del Rodono e allora sarà forte maltempo non tanto freddo ma forte maltempo eccolo qua una classica eruzione di aria fredda da Rodono eh di Beccio Scirocco su gran parte della penisola più fresco sulle Alpi al Nord Ovest dove nevicherà probabilmente in quota anche parecchio tra giovedì e venerdì ripeto forte maltempo questa volta sulle Terenic e finalmente al nord questa è dato odierno la novità andiamo subito a condividere quello che accade guardate che immagine spettacolare questa qui è la perturbazione che ancora porta piogge nel basso Tirreno ancora e c'è al momento ci sono nuove piogge molto intense nel Ragusano dove ieri c'è stato un violentissimo un ubicraggio ed eccolo lo la spettacolare irruzione artica che arriva ma la faccio vedere meglio da qua eccola qua vedete qui sul bianco si vede molto bene ma vede il fronte come punta dritto verso il Mediterraneo non entrerà completamente ma comunque eccolo già che si va avanti farà sentire bene la sua presenza e ve lo faccio subito vedere dalle vi condivido subito quelli che sono eh la sullo stato attuale del radar eccolo qui un attimo che ve lo condivido eccolo questo volevo far vedere guardate l'irruzione d'aria fredda che arriva e che entrerà nel Mediterraneo ripeto il noccio rimarrà a nord ma buona parte entrerà nel Mediterraneo allora vi condivido e questa volta è giusto eccolo qui una una parte della visione eccola metrologica guardate qua allora ecco il radar attuale due cose da sottolineare forte maltempo nel ragusano guardate questa la squad line questa scia di temporali e e temporali ora anche in Friuli questo perché che sono dovuti all'entrata dell'aria fredda e qualche eh delle piogge anche su Torino ancora moderate ma correlate all'entrata del fronte di ruzione artica quindi andiamo a vedere cosa ora cosa sta accadendo e come sarà l'evoluzione del tempo nei prossimi giorni allora andiamo subito questo ecco il fronte che sta per entrare questa è la cellula di aria fredda che è completamente distaccata dal vortice polare direttamente qui dall'agroillandia prende le mosse e adesso è nel mare del nord ecco che scende guardatele in dodici ore in dodici ore ecco qui si forma ancora bassa pressione nel nord ma vedete come il nucleo principale resti ancora eh ancorato nell'Europa centrale sebbene eh la saccatura entri l'aria diciamo l'aria fredda artica entri nel Mediterraneo ma poi guardate ecco qua fa un altro giro si riversa dalla valle del Rodano e questa saccatura sarà quella che giovedì sera porterà forte maltempo al centro nord quindi un nuovo forte peggioramento che arriverà questa volta con aria fredda che entra da ovest e poi forse si andrà incontro a una rista un ristabilizio del tempo allora vi mostro anche le le temperature eccole qui queste sono le temperature a mille e cinquecento metri di quota allora guardate la dieci gradi diciamo che può essere anche assimilabile a al fresco non dico freddo proprio guardate come entra e questa è l'entrata dell'aria fredda più ridotta rispetto ai giorni scorsi ma un ulteriore ricambio d'aria dopo il fresco di questi giorni ma guardate come prosegue poi attenzione questa è l'aria fredda che poi entra giovedì e venerdì da ovest entra da ovest vuol dire che al nord farà comunque freddo nonostante il richiamo caldo al centro sud farà freddo con notevole precipitazioni quindi sono da prevedere nevicate sulle sulle rievi alpini e allora andiamoci a guardare le mie elaborazioni questa è quella che abbiamo mostrato prima l'aria fredda che punta dritto verso il Mediterraneo e poi a seguire ecco qua queste sono le nevicate che eh queste sono generate l'irruzione fredda delle prossime ventiquattro ore soprattutto nei versanti esteri ma con ampi sconfinamenti anche nel eh dal lato italiano potranno spingersi fino a mille metri forse anche più in basso dalle versanti esteri mille due mille tre anche dalla dal settore italiani ma poi ecco il maltempo guardate quanta pioggia che risale eh venerdì mattina nelle prime ore del mattino su tutto il terreno anche il nord prima anche al nord ove se non vi l'ho mostrato da quest'altro pannello questo è il modello americano e questo è il modello europeo guardate quanta pioggia che arriva tutto il terreno e tutti il nord tutto lo stau sulle Alpi dove ci sarà anche neve e l'aria fredda che entra dal Rodano e allora e allora abbiamo quindi l'irruzione artica dopo tutta questa pioggia sarà quella che porterà probabilmente meno pioggia ma più ricambio d'aria venti rovesci e nevicate sui riemi alpini poi subito dopo nuovo impulso perturbato molto intenso ma questa volta che entra dal Rodano e innesca correnti milionari al centro sud pioggia su tutto il terreno e oggi nevigate al nord nevigate in quota con finalmente la pioggia che arriva anche al nord ovest e su tutto il nord quindi da tenere presente giovedì venerdì iscrivetevi al canale YouTube mettete la campanina per essere aggiornati perché la situazione è sempre più evolutiva un abbraccio a tutti ciao ciao